Siamo pronte? Sì! Il pelucetto Desi l'hai preso? Sì! Io ho preso l'imbolace dei pochi. C'era una chiesa tra quello verde Luigi e Mario Luigi e questo. Questo è più carino. Così vi fanno compagnia. Ok, andiamo? Ok, ora? Desi, dov'è Mimmi? Eccola, eccola! Prendiamola al volo! Vai Mari! Buona direzione albergo! Albergo con la piscina, Desi! Sì! Vai! Finalmente! Sì, buonanotte! Ma che cosa dici? Vengo anche io! Sì, buonanotte! Finalmente siamo arrivati in albergo! Sì! E siamo! Cioè, è cadante che stiamo arrivati! Abbiamo tranzato e adesso si va in piscina! Desi! Andiamo in piscina? Eh? Che fa caldissimo! Sì! È bellissimo l'hotel! Ancora non abbiamo visto le stanze! Ce le danno alle tre! Però, dettagli! Qua sì è bellissimo! Abbiamo la piscina qui! Ma dopo gliela facciamo vedere! Sì! E' spesso brava! Dove vai tu? Dove vai? Eh? C'è la mia casa! Desiree non vede l'ora! Vabbè, forse, ragazzi! Che tanto io porto! Vabbè, buonasera! Siamo! Ecco, le euforiche di andare in piscina non vedevano l'ora! Eccola, ragazzi! La piscina dell'hotel! Guardate quanto è bella! Wow! Ah, come si sta bene, ragazzi! È bellissimo! Gli asciugani le hai presi? No! Le hai dimenticati di là! Vado a prendere io dopo! Va bene, vado a prendere! Ok! Raga! Mamma, lo sai che io porto? Sì, ma ci metti... Eh, ma tu ci tocchi un po'! Ma che sia! Ma che sia! Ma come ci mettiamo qua? Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai! Ragazzi, qua! Le mettiamo qui, la sua parte! Come se rega! Mario, è bello, eh! Vai, mamma, aspetta! Desi, ti piace? Sì! È moda! Sì, è moda! No, dali, no! Io sì! È bello! No, dali, no! Eccola, Dedea, che si è fatta il bagno! Adesso un bel ghiacciolo ci sta tutto, eh! Con questo caldo! Vero, Desi? Eh? Come ti è sembrata questa piscina? Eccola qua, ragazzi, la piscina! La bella piscina sistemata! Eh? Desi? Desi è un po' stanca! Guarda qui! Fai un sorriso agli amici pazzerelli? Dimmi qualcosa! Eh? Parla con gli amici, digli qualcosa! No! No! Come? Ci rimangono malissimo! Eh? Te lo sei fatto il bagno? Eh? Hai notato? Non vorrei molto! Fammi vedere! Guarda che mani! E Marianna dove sta? Sta laggiù! Eccole là! Non si vede da qua, sta con le sue amichette di danza! Vai ora? Vai da tua sorella? Eh? Va bene! Le sorelle pazzerelle devono stare sempre insieme! È vero? Va bene, vai! Vai! Fa freddo! Come fa freddo! Corri! Riscaldati! Vai dai si! Vai! 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 Vabbè! 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 non ci potremo stare lasse nel e il no il Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Di? Di dove? Di Sicilia Italia 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 Mari Siamo arrivati l'ultimo giorno Ce ne dobbiamo andare Dobbiamo andare via Eh sì Già dobbiamo andare via Sembra che siamo arrivati oggi Eh? Sei triste? Dobbiamo Dai Andiamo? 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 Te si è triste Dai che la prossima settimana partiamo Eh? Sei contenta? Eh? Tutti questi bagni in piscina ci faremo Vero? Vediamo l'ora noi Vediamo l'ora noi Vero Mari? Vero Mari? Vero Ok Quindi È stata una bellissima esperienza Vero? Sì Bellissima Siete arrivati Seconde Seconde In due balli In due balli Campioni Italiani Italia Eh Italiani Grande La prima volta siete stati fortissimi E niente ragazzi E come sempre Speriamo tanto Che questo video vi sia piaciuto Mettete un pollicione Iscrivetevi al canale delle sorelle mazzerelle Attivate la campanellina Dindo Dindo E con il video vi chiedete sempre questo video E tutti gli altri E al prossimo video Ciao Ciao Noi partiamo Andiamo a prendere l'aereo Sì Andiamo a prendere l'aereo Ciao C'è un po' di Mettere un po' di Mettere un po' di Mettere un po' di